Ecco, innanzitutto sono io a ringraziare Martina, la Fondazione Garivo, per questo convegno, questa sala è piena di amici, permettetemi di dirlo, voglio salutarli tutti, ci sono tanti colleghi e colleghe parlamentari, c'è tanto e autorevolissimo mondo della diplomazia e per tutti anch'io saluto l'Ambasciatore Bartoli ringraziandolo naturalmente. Oltre a salutare le autorità voglio salutare tutti i cittadini, sono state molte le richieste di poter partecipare a questo nostro convegno, voglio salutare e ringraziare le studentesse e gli studenti che sono qui, le insegnanti per tutto quello che fanno e perché l'ascolto di oggi sicuramente sarà un moltiplicatore molto importante. Penso sia un fatto politico di rilievo che oggi il Senato, attraverso questo nostro convegno, faccia vivere la giornata europea dei giusti dell'umanità e sarà di grande significato ascoltare tra poco le parole di Anna Foa. Una giornata che il Parlamento europeo ha voluto istituire sin dal 2012 e che poi, come è stato detto, il Parlamento italiano ha voluto introdurre come solennità civile. Voglio ringraziare Milena Santerini e Lucio Romano che sono stati i promotori di tutto questo. Tutto questo che è avvenuto per la sensibilizzazione e per l'iniziativa della Fondazione Garivo. e innanzitutto un grande applauso al suo presidente Gabriele Nissim che qui intendo ringraziare non solo per questo ma per l'opera infaticabile che porta avanti da tanti anni in Italia e nel mondo e in particolare un'opera che attraverso il progetto dei giardini dei giusti ha un grande riscontro nella società. Chi salva una vita salva il mondo intero, lo sappiamo, è scritto nel Talmud e questa è la frase più evocativa. oggi e non solo oggi perché in questa frase c'è il senso, c'è il significato più profondo della civiltà umana. Salvare una vita dall'oppressione, salvare una vita dalla discriminazione, dalla guerra, da un naufragio, ci sono tanti modi di salvare una vita o viceversa di condannarla e c'è un modo diretto, materiale e c'è un modo quasi impalpabile ma invece duro come un macigno ed è altrettanto grave ed è l'indifferenza, il menefreghismo, c'è un modo innanzitutto di far vivere le nostre democrazie ed è non essere mai indifferenti, non voltarsi di fronte alle ingiustizie, non chiudere gli occhi di fronte alle discriminazioni, quelle eclatanti e quelle che sembrano insignificanti e che invece lasciano ferite che non si rimarginano, non girarsi di fronte alla violazione dei diritti, non tacere mai di fronte ai pregiudizi, agli stereotipi che sono l'anticamera, il contesto dove attecchiscono i discorsi di istigazione all'odio e sappiamo perché lo insegna la storia che l'uso politico dell'odio erode le basi della democrazia. Ho molto insistito perché questo convegno recasse in titolo costruire democrazia nel nostro tempo perché c'è un unico modo per contrastare le persecuzioni, la violazione dei diritti umani sotto ogni forma ovunque nel mondo ed è sconfiggere dittature, totalitarismi ed è affermare democrazia e stato di diritto e sappiamo che ancora nel nostro tempo questa sfida non è affatto vinta perché la stagione di speranza che si era aperta dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo la decolonizzazione, dopo la fine della guerra fredda, con l'apertura della globalizzazione, quella stagione si è infranta, si è ripiegata su se stessa, sulle proprie mille contraddizioni, nuove disparità, nuove diseguaglianze, nuove fratture sociali ed economiche e la democrazia va in crisi quando tradisce le sue promesse ed ovunque oggi è in affanno, una crisi che è identitaria, culturale, ideale, politica, una crisi di consenso, una crisi di legittimazione incalzata ovunque dalle autocrazie, dai modelli regressivi eppure oggi più che mai in questo tempo è necessario costruire democrazia, libertà, eguaglianza, fraternità, parole che ci hanno innamorato e che ci innamorano perché sono valori universali, sono valori insopprimibili, sono il motore dell'umanità e sappiamo che sono più forti di ogni tirannide, di ogni inganno e sappiamo che alla fine vinceranno in ogni parte del mondo dove oggi sono negate e oltraggiate e sappiamo che vinceranno perché cammineranno sulle gambe delle nuove generazioni che reclameranno il diritto a studiare, a capire, ad emanciparsi, a realizzare il proprio progetto di vita e il proprio talento. Qui c'è il senso di questa giornata e i giusti sono milioni di persone che con un gesto o con una presa di posizione hanno il coraggio civile di opporsi alle dittature, tutte le dittature, di denunciare i crimini contro l'umanità ovunque avvengano. C'è un'etica politica che non confligge e noi abbiamo il compito di dirlo forte, un'etica politica che non confligge con il realismo della politica, ma anzi che deve esserne la sostanza. La nostra Costituzione repubblicana, che nasce dal fuoco della battaglia politica, è l'esempio più alto di tutto questo, di questi valori universali che poi saranno il fondamento dell'integrazione europea. L'articolo 10 che scandisce lo straniero al quale si è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana a diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. La nostra Costituzione ci ricorda sempre qual è il nostro compito. All'abominio delle leggi razziali volute dal fascismo, emblema assoluto di discriminazione, i nostri padri costituenti risposero con gli articoli della nostra Costituzione, soprattutto gli articoli 2 e 3 che incarnano i principi di eguaglianza, di non discriminazione, di rispetto della dignità inviolabile della persona e indicano come compito del legislatore quello di abbattere i muri della diseguaglianza, della discriminazione di qualunque natura, da qualunque fattore provenga. E questo è il solco da cui nasce l'ispirazione per la Commissione contro le discriminazioni, contro l'istigazione all'odio, contro il razzismo, l'antisemitismo che fortissimamente è stata ed è voluta dalla senatrice Liliana Segre. I lavori della nostra Commissione costituiscono un unicum a livello dei parlamentari e di tutto il mondo e la forza della presidenza di Liliana Segre, il valore simbolico e politico della sua testimonianza, del suo impegno civile, ha permesso alla nostra Commissione di rivolgersi non solo alle istituzioni ma al dibattito pubblico e in particolare alle nuove generazioni in modo che strumenti nuovi diano forza alle nostre democrazie e impediscano attraverso le nuove generazioni il rigurgito di tempi oscuri. Perché viviamo nel tempo di oggi una recrudescenza dei discorsi d'odio anche nelle nostre democrazie. Una gigantesca onda è stata definita perché si propaga principalmente attraverso la rete e sappiamo che può mettere a rischio la tenuta delle nostre democrazie. Innanzitutto perché la rete è il luogo in cui viviamo. È molto più di un mezzo di comunicazione, è la forma sociale totalizzante nella quale noi viviamo. E la rete non è un luogo neutrale, è un potere privato, il più delle volte avulso da regole e questo pone un problema molto serio nel rapporto tra multinazionali digitali e democrazie statuali, tra sviluppo tecnologico e interessi economici. Ci sono molti interrogativi sul nesso tra diffusione online dei discorsi d'odio e modello di business delle piattaforme. Una monetizzazione dell'odio che ha effetti dirompenti, che provoca regressione dello spirito pubblico, dei livelli di coesione civile e siamo di fronte a questioni che non riguardano il politicamente corretto, ma che riguardano il tessuto connettivo delle nostre democrazie, la loro tenuta. Ed è per questo che c'è un dibattito molto importante a livello europeo sulla necessità di inserire i reati di incitamento all'odio tra quelli di rilevanza europea riconosciuta dai trattati dell'Unione, perché questi reati minano alle fondamenta i valori per cui l'Europa è nata e si è costruita e per la quale oggi ci battiamo e per la quale molti vedono e vagheggiano l'Europa. Il linguaggio di istigazione all'odio è un linguaggio discriminatorio perché impedisce il protagonismo, la libertà di espressione di singole individualità, di intere comunità e quindi è un discorso dai tratti totalitari che esclude, che reprime, che è incompatibile con la democrazia, che invece ha il compito di abbattere i muri, di includere, di emancipare. Ed il tema non è solamente il bilanciamento tra la libertà, la dignità, la non discriminazione che sono i principi cardini del costituzionalismo liberal democratico. Il tema è innanzitutto all'interno alla salvaguardia del principio di libertà. Perché, come è stato scritto, se difendiamo i discorsi d'odio in nome della libertà di espressione, in realtà noi stiamo scegliendo la libertà di espressione di alcuni, gli aggressori, a discapito della libertà di espressione e della dignità delle vittime e quindi di tutti. Perché non può esserci libertà senza dignità. E nello scorso maggio il Consiglio d'Europa proprio su questo ha approvato una fondamentale raccomandazione sul contrasto dei discorsi d'odio, sulla tutela della libertà di espressione delle minoranze che ne sono vittime. perché il crimine d'odio è un reato, non è mai manifestazione di pensiero. E l'istigazione all'odio non ha nulla a che fare con la libertà di espressione, anzi ne è la negazione perché impedisce la libertà di altri. E sappiamo, e concludo, che la disinformazione, la manipolazione delle realtà sono da sempre, lo sappiamo, sono da sempre uno strumento di discorsi d'odio. E sappiamo che invece c'è un modo, il più potente, per evitare che si sparga questo veleno. Ed è far crescere la cultura, la conoscenza, il dialogo, il riconoscimento reciproco, abbattere le diseguaglianze sociali ed economiche, redistribuire ricchezze ed opportunità, estendere diritti sociali e civili che sono tutt'uno e che si rafforzano vicendevolmente, costruire società inclusive in cui tutti possano riconoscersi e sentirsi rappresentati. perché solo dove libertà, dignità ed eguaglianza vivono insieme, allora può vivere lo Stato di diritto. Grazie a tutti.